Musica Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Bassano TG. Come ogni domenica rivediamo insieme i fatti principali della settimana. Si rafforza la battaglia per salvare la sanità nel Bassanese di fronte ad un programma di riordino delle aziende sanitarie della regione che vedrebbe Bassano perdere la direzione generale e passare sotto Vicenza così come già successo con il Tribunale. Dopo l'appello lanciato da Rete Veneta per la creazione di una ULS della Pedemontana il fronte che si sta muovendo sul territorio a questo scopo raccoglie adesioni in tutti gli ambiti della società civile dell'associazionismo e anche dei sindacati. Naturalmente a muoversi sono anche le amministrazioni comunali. Si spiega così la seconda audizione alla quinta commissione della regione a Venezia del sindaco Poletto accompagnato da altri esponenti della conferenza sindaci del Bassanese. Abbiamo consegnato il documento elaborato nel gruppo di lavoro avviato insieme alla conferenza. Cioè a noi preme che venga riconosciuta la peculiarità del territorio pedemontano del Bassanese e quindi che si pensi a nuove ULS per quella che ci riguarda che viaggia sui 400.000-500.000 abitanti. Il progetto è dunque una nuova ULS della Pedemontana che unisca territori con peculiarità ed esigenze omogenee. Diversamente gli accorpamenti su base provinciale finora previsti, si sostiene, creerebbe un calderone troppo grande con contatti rarefatti tra i singoli territori e la direzione generale di Vicenza in un ambito con caratteristiche profondamente diverse e difficilmente conciliabili. Poletto suona la carica della conferenza dei sindaci. Se tutti i comuni del territorio riuscissero ad avere, se non un comunicato proprio identico, ma nella sostanza chiedessero la stessa cosa, credo che Venezia difficilmente possa non tenere conto. Sarebbe un no rispetto a l'ULS provinciale e sarebbe quindi la controproposta di ragionare su use più piccola legata alla rapida montana. Bassano rischia anche l'azienda sanitaria. Certo, però non so se avete sentito il sindaco, dice che in sostanza lui ha lanciato uno slogan piccolo è bello, perché le cose piccole, anche le amministrazioni pubbliche piccole, si possono controllare dal basso. C'è un principio di democrazia che deve valere anche qui. Quando sono troppo grandi sfugono il controllo e sappiamo come funziona l'amministrazione pubblica da cani. E quando si deve tagliare si taglia comunque sempre a Bassano? Purtroppo poi danno parte e sperperono e dall'altra tagliono in modo sconsiderato, buttano il bambino con l'acqua sporca. Buonasera dottor Iorio. Buonasera a voi. Lei ha appena presentato ai 2000 e oltre dipendenti dell'area Vicentina il piano industriale. Su cosa verte il piano industriale? Quali sono i punti fondamentali? Guardi, io l'ho definito un piano semplice. Questo è un piano che riporta la banca al centro del territorio. E quindi tornare a fare banca nel senso stretto del termine, che vuol dire gestire la raccolta e gli investimenti dei nostri clienti e finanziare l'economia domestica e l'economia delle aziende. Come si fa a recuperare credibilità dopo questa tempesta? Guardi, io credo che siano fondamentali due momenti. Il primo è tirare una linea netta con il passato e quindi far emergere con chiarezza tutto ciò che non ha funzionato e quindi tutte le passività che sono all'interno della banca. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è guardare al futuro e creare un piano del tempo che possa tornare effettivamente a porre questa banca nel corretto posizionamento che le spetta di diritto nel sistema bancario italiano. Ci stanno guardando tantissimi clienti e soci della Banca Polare di Vicenza. Che cosa si sente di dire? Come oggi ha caricato i diritti di uomini? Guardi, con grande franchezza, credo che razionalmente la scelta non può essere che quella di seguire la banca nell'aumento di capitale, ma non per un fatto soltanto di affezione, ma per un fatto proprio di razionali economici per evitare di essere diuiti e io credo che chi avrà la consapevolezza e la razionalità di farlo, nonostante le difficoltà che ho già detto prima, possa poi nel prossimo futuro avere anche delle soddisfazioni importanti che probabilmente non consentiranno di recuperare il tutto, ma comunque di avere un beneficio dall'investimento nuovo fatto. Che idea si è fatto di questa vicenda della Banca Popolare di Vicenza? È una situazione complessa che non invidio, nel senso che penso Iorio stia attraversando un momento complicato nel recupero di quella credibilità che accennava durante il servizio. Chiaramente credibilità che dovrà essere monitorata e evidenziata nelle prossime tappe. E quale ruolo devono avere secondo lei le banche nel territorio? Una cosa che forse bisogna riconoscere alle banche del territorio è il fatto che abbiano consentito soprattutto alle piccole e medie aziende di sopravvivere in un momento in cui altre banche si sono invece defilate. Primo gennaio 2016, ricordatevi questa data, arriva direttamente dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, a Treviso, una notizia che i comuni non si aspettavano e per una volta è una buona notizia. Siamo in condizioni di dire con chiarezza ai comuni che tutto ciò che è avanzo di amministrazione nella parte che riguarda gli investimenti, quindi non nella parte della spesa corrente, tutto questo a far data dal primo gennaio del 2016 sarà fuori dal patto di stabilità. Stiamo lavorando per riuscire a farlo anche per le regioni, stiamo in tavolo con le regioni, ancora non abbiamo trovato la quadratura economica, ma con gli investimenti delle scuole, degli interventi, dei marciabietti. I sindaci che hanno soldi in cassa pronti ad essere spesi sulla parte infrastrutturale li spendano, perché li possono finalmente spendere fuori dal patto. Una boccata d'ossigeno non solo per le amministrazioni, ma anche per l'economia di un territorio come il nostro, messo in ginocchio dalla crisi. Due notizie importanti, che tutti i soldi che verranno meno dalla tassa sulla casa saranno restituiti, lui ha detto esattamente, paro paro, cioè in misura analoga, come è giusto che sia, e anche l'altra notizia ancora più importante, a mio avviso, cioè finalmente nel 2016 i comuni che hanno risorse possono investire anche oltre il patto di stabilità. Molti comuni veneti potranno, io credo, investire e questo creerà un altro volano che aiuta l'economia e i servizi per le comunità. La politica come servizio ai cittadini, la politica come avanguardia delle riforme. Se il PD Veneto fa questo, avrà sicuramente modo di poter riprendersi, di crescere, di dare un grande contributo alla nostra terra, al Veneto. Il patto di stabilità è uno dei grandi paradossi di questo periodo di crisi. Vare a dire, i soldi ci sono, ma non si possono spendere. Nel caso effettivamente si realizzasse quello che abbiamo sentito dal Premier Matteo Renzi, quanto si potrebbe liberare a Bassano, per così dire, come risorse? Questa è la notizia del giorno. Ci siamo sentiti con il Sindaco, con l'assessore Vernino, che penso stiano ancora sorridendo dalla felicità, nel senso che, essendo Bassano un comune virtuoso, per noi significa sistemare le scuole, piste ciclabili, significa mantenere e sistemare i due palazzetti del sport che hanno bisogno di essere manutentati. Significherebbe anche rimettere un po' in moto l'economia, visto che si esiterebbero i lavori magari anche a dite locali. Sicuramente, non c'è dubbio da questo punto di vista. È un segnale estremamente importante ed è, ripeto, il segnale della giornata. Doveva essere la giornata di consegna al Sindaco delle firme raccolti al quartiere San Vito per chiedere modalità diverse di accoglienza per i profughi in arrivo a Bassano. Invece, nonostante siano state già raccolte qualche centinaio di firme in pochi giorni, l'appuntamento in municipio è stato rimandato. Abbiamo avuto parecchie e moltissime richieste anche da non residenti, quindi cittadini bassanesi, che vogliono sottoscrivere le stesse richieste. Per poterlo fare devo posticipare la consegna del documento. La partecipazione si allarga dunque a tutta la città e presto ci sarà una riunione dell'intercomitato con i presidenti di quartiere. Ma mentre a San Vito gli occhi rimangono puntati sulla palazzina dove sono previsti entro questo mese una ventina di arrivi, dopo le polemiche in consiglio comunale, gli animi si stanno surriscaldando anche per le vie e i locali del rione. Molti residenti che hanno sposato di darci un aiuto, andare dal vicino piuttosto che dalla signora che magari non potrebbe venire si sono sentiti etichettare fascisti. Un papà che è nostro consigliere poi a scuola ha chiesto, ha detto venite a firmare, noi siamo lì, dava le informazioni e si è sentito etichettare da un nonno che siamo dei fascisti, che dobbiamo solo vergognarci. La tensione è tale che alcuni residenti avrebbero preferito firmare scegliendo il momento in cui non si trovavano addosso sguardi indiscreti proprio per evitare discussioni. Eppure, ribadiscono al quartiere, la petizione non chiede che soluzioni di buon senso per un'accoglienza sostenibile e allo scopo di farsi ponte tra cittadini e istituzioni per evitare sgradevoli iniziative di senso opposto. Il Consiglio di quartiere voleva fare da tramite, conciliante, invece in questo modo è solo etichettato come i fascisti e chi viene a firmare lo stesso, alla stessa maniera. Non è questo, perché stanno venendo cittadini indipendentemente dal partitocrazia. I tre cittadini sono anche volate parole grosse, ma le chiedo, è una questione politica o è semplice mala gestione dei profughi? La gestione dei profughi a livello nazionale è disastrosa, lo dicono sindaci di tutte le parti politiche. Io credo che in un paese civile i profughi che scappano da guerre e da persecuzioni devono essere accolti. Però se questi rappresentano il 5% degli arrivi in Italia, la dice lunga, perché invece di 200 mila persone, se dovessimo accogliere, ne dico 10 mila, io penso che dovremmo assolutamente andare incontro alle esigenze di queste persone. In Consiglio Comunale io avevo chiesto sempre sul discorso del buonsenso che venissero portati a Bassano, se possibile, famiglie o donne con bambini, che sono i primi a essere colpiti da queste persecuzioni e da queste guerre. La maggioranza non ha ritenuto doveroso votarlo, e ne abbiamo preso atto, mi sembra assolutamente illogico da parte della maggioranza, come illogica è la negazione della nostra richiesta che queste persone che arriveranno a Bassano vengano controllate, perché la cooperativa non è di Bassano del Grappa, è di Quinto Vicentino. Noi abbiamo una cooperativa che opera bene sul territorio e questa cooperativa da Quinto Vicentino ha già avuto problemi in altri comuni della provincia, loro probabilmente il venerdì sera alle 5 staccano e rientreranno il lunedì. Mi sapete dire come verranno controllati questi 25 ragazzotti che arriveranno in due appartamenti a San Vito dal venerdì sera a lunedì mattina? Questo crea preoccupazione nella gente e la maggioranza sembra che si assorda queste richieste che io penso che siano logiche. Tutta la gestione dei profughi è stata approcciata, secondo me, con un modo che ha creato dei problemi, sotto vari profili. Però io ricordo sempre che al di là del consenso del momento noi siamo una valle di emigranti. Anche noi siamo stati emigranti. Luca Ferrazoli, sindaco di Cismone, presidente dell'Unione Montana Valbrenta, risponde così a chi storce il naso di fronte all'arrivo di profughi. Dopo la famiglia ganese, padre, madre e una figlia piccola a Valstagna, sono arrivati altri nuclei familiari a Primolano e Costa di Valstagna. Ma ci si prepara anche a Campolongo, San Nazario e Solagna, anche se sui numeri totali è difficile fare previsioni certe. L'obiettivo è un'accoglienza sostenibile, diffusa sul territorio con tanto ricorsi di italiano. Il progetto che noi portiamo avanti deve prevedere che queste persone si mettano a servizio anche con il lavoro della comunità che li ospita, in modo che si crei un meccanismo che sia virtuoso. Certo, la differenza rispetto ad altri casi, come quello di Bassano, è che in Valbrenta stanno arrivando nuclei familiari. Nessuna concentrazione di richiedenti asilo, come si prevede al quartiere San Vito di Bassano, e nessuna polemica o incomprensione con la prefettura. Io non credo che noi abbiamo avuto un'abilità diversa da altri. Diciamo che un po' siamo stati aiutati dalla disponibilità, nel senso che noi non abbiamo grandi strutture pubbliche atte ad accogliere presenze consistenti. Confidiamo di poter continuare perché comunque si dà sollievo alla prefettura, ma cercando di limitare quelli che possono essere i conflitti che sorgono all'interno delle comunità. Calata delle mamme dell'Altopiano di Asiago a Venezia per salvare la pediatria, già chiusa sulla carta in realtà dalle schede sanitarie, è il nosocomio dell'Altopiano. Audizioni in quinta commissione per trovare una soluzione a un problema da non sottovalutare, dichiarano gli esponenti del Comitato Sette Comuni per Pediatria, che hanno presentato una relazione molto precisa. A giugno 2014 ha chiuso la chirurgia, a settembre ha chiuso la pediatria, questo mette a repentaglio il punto nascita e si sta costruendo un ospedale di 20 e passa milioni di euro, un bel contenitore, ma avanti di questo passo rimarremo senza contenuti. Siamo ottimisti, abbiamo espresso le nostre perplessità, i nostri dubbi su questo rischio di chiusura del reparto. Non dimentichiamo che la pediatria ad oggi sulla carta è chiusa, però abbiamo riscontrato positività da parte dell'assessore Coletto e da parte anche di membri della commissione e quindi siamo molto ottimisti. Siamo molto fiduciosi che la regione dia un posto anche noi altopianesi. Si va incontro piano piano allo spopolamento anche dell'altopiano, perché quale mamma si fiderebbe poi a partorire ad Asiago, non avendo più un'assistenza sanitaria, che famiglie verrebbero formate poi in altopiano, quindi piano piano si spopolerebbe la montagna. Il fatto di avere un presidio ospedaliero sull'altopiano significa avere accesso alle cure sanitarie in tempi brevi, in tempi ragionevoli. Chiaramente se questo venisse a mancare, i tempi per raggiungere il nosocomi della pianura si allungherebbero di molto e quindi questo potrebbe pregiudicare la salute sia della madre che del bambino. Una vicenda che Rete Veneta aveva seguito sin dall'inizio, schierandosi da parte di tutte quelle famiglie che chiedono che resti la pediatria ad Asiago. Che si vada ad aggiungere alla già delicata questione sanità che riguarda anche il Bassanese, con la rivoluzione decisa dalla politica regionale e gli accorpamenti delle ULS di cui ancora non si capisce quale sarà il futuro. Quindi innesimo caso di sanità rischio che vada ad aggiungersi già all'incerto futuro della sanità bassanese. Sì, assolutamente. È un segnale preoccupante sul quale dobbiamo riflettere seriamente, dobbiamo fare squadra, tutti gli amministratori locali per cercare di mantenere un'uso della pedemontana. Perché non è solo e non tanto una questione di risparmio, ma soprattutto una questione di servizi e di livello di qualità, della possibilità di avere delle cure sanitarie nella nostra zona. Non possiamo pensare di poter andare o di poter avere le decisioni troppo distanti dalla zona della pedemontana, dalla zona del Bassanese. Perché questo sicuramente poi avrà una ricaduta negativa per quello che riguarda le prestazioni. L'ospedale di Bassano, ma l'ospedale della pedemontana, chiamiamolo così, perché dobbiamo anche iniziare ad avere il coraggio di guardare oltre la nostra città di Bassano del Grappa, avere il coraggio di ragionare in termini più ampi e solo così fare squadra per mantenere quelle che sono le conquiste di anni del nostro territorio. Hanno lavorato i nostri padri, i nostri nonni e noi abbiamo il dovere e la responsabilità di poterli mantenere. Questo non vuol dire che non si debba ragionare in termini di riorganizzazione anche delle risorse. E siamo sicuri che con la Regione del Veneto, che ritengo possa esserci anche un dialogo sicuramente costruttivo, ho visto e ascoltato anche autorevoli rappresentanti del nostro territorio in Consiglio regionale, si deve assolutamente fare una riflessione e cercare di capire come si può migliorare e senza togliere i servizi alla gente, perché poi questo esempio della pediatria ad Asiago, in territori anche difficili, ne è il primo e ci auguriamo che possa essere anche ridimensionato anche dalle notizie positive che abbiamo sentito arrivare dal servizio. Abbiamo sempre più anziani, abbiamo pochissime coppie che fanno figli, quindi un calo di nascita è molto importante, quindi sì, è una città che diventa sempre più vecchia. Bassano è una città che invecchia, il dato emerge dall'annuario statistico che scatta la fotografia della realtà bassanese al 31 dicembre del 2014. La popolazione è praticamente stabile, i residenti sono 43.363, 22.780 sono femmine, 20.583 i maschi. La natalità è in calo, mentre cresce la mortalità, l'età media è pari a 44,7. Il bassanese più vecchio è una donna di 105 anni. Il quartiere più popoloso è San Vito, quello più giovane è Rione Merlo, il più anziano è Rubbio. Per quanto riguarda le famiglie, quelle con un solo componente sono la maggioranza, ovvero il 38,3%. Altro dato interessante riguarda i matrimoni, perché quelli civili hanno superato i religiosi e il trend è comunque in calo. Capitolo stranieri. Innanzitutto le nascite, il 35% dei bambini nati nel 2014, almeno un genitore immigrato, cresce la percentuale di bimbi nati da coppie miste, 13%. Il numero di residenti originari di altri paesi diminuisce, ma un dato che va spiegato. Negli ultimi dieci anni abbiamo per la prima volta un calo di residenti stranieri. Questo farebbe pensare che gli stranieri da Bassano se ne vanno. In realtà moltissimi stranieri, dopo le prime ondate migratorie, negli anni 90 soprattutto, acquistano la cittadinanza, quindi non stanno dando via gli stranieri, ma in realtà stanno diventando italiani. Quindi abbiamo dei nuovi italiani a Bassano. La media degli stranieri è comunque alta, 11,2% contro l'8,3% del dato nazionale. Chiudiamo con l'età media del decesso. Donne decisamente più longeve muoiono intorno agli 85 anni, per i maschi invece la media di 78,5%. Ci sono il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale e alcuni assessori, ma anche un sindacalista, un dirigente scolastico e diversi imprenditori nella delegazione della città di Veranopolis, in visita in questi giorni al territorio di Rosà, accompagnata dal primo cittadino Paolo Bordigno. Abbiamo conosciuto questo signore che adesso chiamiamo di fratello e abbiamo di sviluppare altri progetti, sino allo sviluppo sociale, culturale, turistico e anche allo sviluppo economico, perché abbiamo quasi una stessa roba della nostra regione, come qui uno sviluppo di metallo meccanico, un sviluppo di buone dite e anche grosse industrie di questo settore. Si parla finalmente di emigrazione con gente veneta, gente nostra, che si sono piantati su una terra. Qui come fratelli naturalmente siamo benvenuti a Rosà sotto l'aspetto soprattutto economico. Prima tappa del viaggio rosatese della delegazione brasiliana, l'ente di formazione IRIGEM. La visita di oggi soprattutto all'IRIGEM, che è un istituto importante, credo il migliore del territorio, è un aspetto molto importante sotto l'aspetto sia culturale ma soprattutto economico, perché l'IRIGEM è anche un ente di formazione, soprattutto per i ragazzi. Oltre all'IRIGEM la delegazione brasiliana in questi giorni sta visitando alcune aziende del territorio per poi incontrare i rappresentanti delle categorie economiche rosatesi. E il viaggio prevede anche tappe a Bassano, Asole e Venezia, dove il gruppo sarà accolto dai vertici regionali. Un'apertura a un mondo nuovo, però che non è tanto nuovo perché è formato da gente veneta come noi, i fratelli come dice il mio omonimo sindaco di Veranopolis. Vediamo i risultati dell'analisi dell'acqua effettuate da Etra nel comune di Cittadella. I dati che vi presentiamo rappresentano le medie sulle analisi effettuate e attestano la purezza microbiologica dell'acqua che ogni giorno sgorga dal vostro rubinetto. Da casa potete fare il confronto tra i dati riportati su queste tabelle e gli stessi che trovate nell'etichetta delle acque in bottiglia. Ma vediamo i dati più significativi per attestare purezza e salubrità dell'acqua. Il pH, ovvero l'indicatore d'acidità, è 7,67. Il residuo secco è pari a 167 mg per litro. Colore e odore sono assenti. Il calcio è 39,3 mg litro. I fluoruri hanno un valore di 0,19 mg su litro, mentre il potassio è inferiore ai 5 mg litro. Il magnesio si attesta sui 13,4 mg per litro. I dati sono stati forniti da Etra, che si occupa di monitorare l'acqua assieme alle ULS in tutto il territorio di sua competenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.